Buongiorno e buon venerdì 4 giugno, oggi è il Paratici Day perché ci sarà la conferenza stampa congiunta tra l'ormai ex responsabile delle tecniche a Bianconero e il presidente Andrea Agnelli, appuntamento oggi alle 14 allo Stadium, quindi daremo il saluto al manager Piacentino che nelle prossime puntate potrebbe lasciare l'Italia per abbracciare l'Inghilterra perché è fortissimo su di lui il pressing del Tottenham che vorrebbero prenderlo in accoppiata poi con il Piacentino. Antonio Conte, tra l'altro i due si conoscono a perfezione perché hanno lavorato tre anni assieme alla Juventus, quindi tutte le strade portano a Londra, però oggi credo che sia giusto e doveroso poi anche ringraziare questo professionista che lascia la Juventus dopo 11 stagioni caratterizzate da 19 trofei, poi nel calcio sappiamo perfettamente come tutto viaggi a una velocità supersonica, ma non bisogna assolutamente dimenticare o accantonare che ho scritto pagine leggendari, che ha contribuito a scrivere pagine leggendarie di questa società e quindi credo che Paratici abbia avuto un ruolo centrale per quanto concerne poi la rinascita di una nobile decaduta post-2006 e quindi è bello vedere che comunque le parti si stiano lasciando nei migliori dei modi con questa conferenza che certifica quanta passione reciproca ci sia stata tra Paratici e la Juve. Per oggi probabilmente fuori dallo stadium analizzeremo poi le parole, magari le curiosità, gli aneddoti che racconterà il buon Paratici, al tempo stesso voglio soffermarmi in questo video su Milano Impianici perché ho letto i vostri commenti, intanto mi state chiedendo quale sia la vera situazione attorno al giocatore del Barcellona che ha vestito per 4 anni la maglia della Juve, ottenendo tantissimi successi con 178 presenze e 22 gol. Quindi anche Pjanic, come abbiamo detto, è Paratici, è stato uno degli artefici poi della splendida cavalcata nei vari anni della Juventus, anche Pjanic nelle sue quattro stagioni a Torino ha detto decisamente la sua. Allora, innanzitutto dobbiamo fare un passo indietro e analizzare questo scambio Artur-Pjanic che credo abbia visto sorridere leggermente di più i tifosi bianconeri anziché quelli blaugrana, perché Pjanic è sembrato davvero un corpo estraneo al Barça, non ha legato con Koeman che tra l'altro ieri è stata confermata la guida del club catalano e quindi questa conferma non dico che porti automaticamente Pjanic all'uscita, ma poco ci manca perché i due non hanno creato un legame, i due anzi si sono lanciati anche qualche frecciatina nel corso dei mesi e soprattutto poi Pjanic ha fatto tantissima panchina, ha fatto tantissima panchina perché Koeman ha altre idee e ha deciso di affidarsi ad altri calciatori. Per un giocatore come Pjanic è abituato a fare il titolare ovunque, giunto anche a 31 anni, questa non è la situazione ideale e quindi giustamente attraverso il suo inturaggio ha cercato di analizzare la sua politizzazione, sta cercando di farlo e soprattutto di valutare potenziali soluzioni che lo possano portare a lasciare dopo una sola stagione il Barcellona. È chiaro che se parliamo di Juventus, in Pjanic troviamo sempre terreno fertile perché qua probabilmente, anzi sicuramente, ha espresso al meglio il suo potenziale, magari non in maniera particolarmente continua, però credo che nelle quattro stagioni da Juventus Pjanic abbia toccato la sua maturità al top, vincendo quello che ha vinto in Italia e poi andando anche vicino al successo in Champions League nel 2017, tra l'altro, in quella partita dove il Real Madrid, nella ripresa, ha sostanzialmente calpestato la Juventus, credo che Pjanic sia stato uno dei pochi a salvarsi. Però, andiamo oltre. E quindi, se a Pjanic si dovesse prospettare un ritorno alla Juventus, io credo che sarebbe in primissima linea per cercare di far sì che ciò accada. Da quello che so io, la Juventus al momento sta stilando delle priorità. Ieri vi ho fatto vedere le immagini dell'inizio, dell'Allegri 2.0 alla Continassa. Da quanto mi risulta, alla fine della fiera non è che Allegri e la dirigenza siano soffermati oltre misura sul mercato. Lo faranno in queste ore, magari oggi, magari all'inizio prossima settimana, perché comunque ci sono tante cose da fare. C'è da pianificare le amichevoli precampionato, c'è da pianificare in generale il precampionato. Allegri si è voluto anche documentare poi sulle migliorie che sono state apportate negli ultimi tempi alla Continassa, perché comunque la Continassa di Allegri, pur essendo passati solamente due anni, è un pochettino cambiata. E ieri, diciamo, è stata più una riunione tra vecchi amici che si ritrovano. Allegri ha salutato anche le persone che già conosceva, in virtù del suo quinquennio alla Juventus. E quindi, diciamo che ieri, queste tre ore che hanno caratterizzato l'Allegri 2.0, sono andate via via così, all'insegna poi anche della massima cordialità, con un ambiente che non vedeva l'ora nelle persone, però e nelle individualità che l'hanno anche scelto, di tornare a lavorare con Massiano Allegri. Al tempo stesso, però, sappiamo anche come Allegri e Pjanic abbiano instaurato un grandissimo legame. E quindi, probabilmente, Pjanic, sapendo che Allegri sia tornato alla Juventus, attraverso sull'entourage, non dico che si sia proposto, però sicuramente sta cercando di valutare l'umore, no? Per capire un pochettino se ci possono essere degli sviluppi o delle prospettive concrete. Vediamo subito al dunque, perché Pjanic può diventare un'idea per la Juventus solamente ed esclusivamente in prestito. Ora non voglio neanche soffermarmi sulle cifre che hanno portato poi allo scambio clamoroso un anno fa tra Artur e appunto il Bosniaco, ma sono cifre talmente elevate che sicuramente non possono sfociare benché minimamente in un'idea che possa portare Pjanic alla Juventus a titolo definitivo. Impossibile. Questo è impossibile perché ha un costo a bilancio davvero enorme, perché Pjanic ha 31 anni e perché poi ha anche uno stipendio elevato, parliamo di oltre i 7 milionetti annui. Quindi se questa traccia diventerà un'idea, sarà esclusivamente, lo ribadisco, in prestito. Che Pjanic, che il mondo Pjanic in questo momento cerchi di capire con tono prioritario l'umore della Juventus è certificato. Ed è normale anche che sia così, perché se tu hai fatto un cambiamento, sei andato in una società e vuoi tornare alla sorta di comfort zone, è chiaro che dà la priorità alla Juventus, in questo caso per Pjanic. Al tempo stesso, tra Juve e Barca, al momento non si registrano contatti. Si registra, ribadisco, un'idea legata alla possibilità che Pjanic possa diventare una traccia percorribile se dovesse innanzitutto rompere quello in Barcellona e se il Barcellona dovesse entrare poi concretamente in loro idea di dare via a Pjanic in prestito. Se dovessero scatenarsi queste due cose, la Juventus potrebbe farci un pensierino. Siamo ancora nel campo del condizionale, siamo ancora nel campo dell'ipotesi, perché comunque la Juventus sta cambiando management, o meglio, sta responsabilizzando altre figure, quindi possono cambiare anche usti. E quindi con un vecchio nuovo allenatore che torna, le strategie sicuramente... non dico che propongano poi nuove riflessioni rispetto a quanto effettuato fino all'altro ieri, perché Paratici ha portato avanti delle trattative. Vedi, per esempio, Locatelli, che non è un discorso che secondo me coinvolge Pjanic, perché parliamo di due giocatori completamente differenti. Pjanic, nell'idea di calcio di Allegri, è un play, Locatelli probabilmente in un centrocampo a tre, ed Allegri verrebbe visto come una mezzala. E quindi, ragazzi, la morale è questa. Pjanic in pressito può diventare un'idea. Al momento stiamo anche molto cauti, perché è facile buttare mille nomi, però di certo credo che Pjanic al tempo stesso stia cercando di capire le mosse della Juventus. Io vi chiedo cosa ne pensate eventualmente di quest'altro ritorno, che al momento non è concreto, questo va specificato, ma che, chi lo sa, nel mercato, ragazzi, lo dico sempre, mai dare nulla per scontato. Però ci sono dei ritorni, dei cavalli di battaglia, che possono tornare in auge, soprattutto se si sviluppano con la formula del presito. E tutte le società, chi più chi meno, sono intenzionate a utilizzare questa sorta di modus operandi per fare in modo che ci sia meno esborso possibile. E Pjanic rappresenta un grosso problema in questo momento per il Barcellona, perché è un giocatore praticamente fuori progetto, che non ha fin con l'allenatore, che guadagna tanto e che quindi in qualche modo è da tentare di rilanciare per far sì che venga tutelato anche un investimento. A livello dello scambio poi con Arthur, ma questa è un'altra storia, di certo c'è che sia Arthur per la Juventus, che Pjanic per il Barça, sono due grossissimi pesi a bilancio. E quindi bisogna cercare di rendere la situazione meno sanguinosa possibile. iscrivetevi nei commenti cosa ne pensate eventualmente di questa idea, se ti fate Juventus, vi do appuntamento oggi al termine della conferenza stampa di Andrea Agnelli e Fabio Paratici fuori dallo stadio, per analizzare assieme le parole del manager Piacentino. Quindi iscrivetevi al mio canale YouTube, azionate la campanella e mettete like ai miei contenuti. Un abbraccio. Grazie.